ecco qua siamo al centro di londra e c'è già uno strato se vedete piccolino nebbioso è quello gesto di stamattina e adesso ne stanno facendo altri in un altro in tre una x e la firma giù più c'è anche uno giù giù in fondo se vedete sotto la nuvola di avanti che avete che alla fine non è neanche la nuvola quella la poi se guardate qua guardate qui tutto pieno sta passando la infatti lo vedete stanno spruzzando tutto